Ti sei perso, la rampellata. La rampella... Whatever. Quindi è finito il capitolo. Adesso c'è Peach Nude? O c'è il quiz? Peach Nude. I think. A me non piace la ciclamipoli nuova, l'hanno riempita di robacce. Ah no, questo è il quiz. Ehi, non sappiamo dove mettere queste cose, mettiamola ciclamipoli. Io adoravo passarci attraverso senza loading times, negli originali. Invece adesso devi attraversare sette porte per uscirne. Per fortuna che hanno messo un'altra... ...cosa. Pensione Pokémon. Anche se come al solito Game Freak, quando fa una cosa buona, la fa a metà per non rischiare di farla troppo buona. Così possono migliorarla nelle gen successive. E quindi il ciclo per covare le uova sul resort lotta ha sempre quelle stupide chiazze di sabbia bagnata che ti fanno affondare e ti rallentano il giro. Sì, per quale motivo? Non capisco. Così! Perché no? What will happen collect seven crystal stars? Che cosa stupida! Perché? Sì! Sì! ... Un tipo super stupido. A Legendary Sword Io voglio vedere Mario con una spada Al di fuori di Smash In un gioco di Mario prima o poi E al di fuori dei giochi olimpici si è considerato la scherma una spada Il fioretto di scherma come una spada E questo è l'ultimo no? No Sì C'è Peach nuda ancora e poi c'è ancora un'altra cosa E c'è... come si chiama? C'è la parte finale in cui spengono tech Il ballo era ieri e ho sbagliato tutte le X Vedi è per questo che non ha senso che c'è Bowser a Oolong Perché qua non sa come andarci Sì è un po' stupido come... No sa come andarci È solo che... Perché c'era prima? Boh non lo so Mi dà un po' fastidio Che lo ficcano a Oolong a caso Sì è stupido come cosa Mi ha sempre... Dato fastidio Perché lui qua dice Io so dove è Oolong Perché ci sono già stato ma... Blah Avrebbe dovuto fare un livello aereo con Bowser Come in Super Mario Land Solo che usava la Koopa Clown Car Come... adesso in Mario Maker han messo quella che sputa a fuoco no? Quindi qualcosa del genere Bluff Invece ci becchiamo il bellissimo livello acquatico Fuck you Corallo Here we go Cammina contro il castello La spilla di Falcomen Ciao Giacomo Ciao Giacomo Ciao Giacomo mmmm cos'è contro il vecchio? il dolore Shazibi! Shabadubi! Shazubi! Shabadubi! Scambiare test... Ah! Posso prendere la guardia spina finalmente e... Flower Saver 3... Ok... Siamo a prendere il personaggio migliore del gioco? Squitty! No, fuck Squitty! I mean, don't fuck Squitty! E' un top! E' legale! Oh wow, lento! Ero troppo... Desideroso Odio quella trappola! Così noiosa! Desideroso Desideroso Chissà se è già tornato Mausebio con i miei soldi Ciao Drago! A dopo! Boah! Quindi qual'era la teoria? Se non è la mappa ti... Folgora! Il raggio! Penso! Ma chi l'ha fatta la teoria? Oh... Non mi ricordo! Ne avevamo parlato! In teoria? Ti uccide? In teoria è un po' spoiler il fatto che... Se non analizzi ombretta la prima... Nel tuo primo incontro con le... Tizie... La trovi nel cestino? Solo lei? Ok... Allora... Ok, prendiamo Squitty! Prendiamo la genella? I think... Hey baby! Uh... Tessera! Ok... Io non ho filo, c'è me stesso, Zero! È la mia forza... È il mio... Come dire... Ciò che mi dà forza... È la mia man... Non avere forza! È non avere forza! Ha 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 ha! Io non c'è uno dei personaggi più utili in sto gioco... Insieme a... Goombestine! Già, non come Lucky Leicester... Perché è Goombestine? Volevo vedere se ti raccordi! Me ne accorgo, Zero! Vabbè... Ombretto dalla vera! Ok, prendiamo sta puzzosa tessera... Zero quando non sa che fare cucina anche se non ha fame... Dopo butta il cibo... Oh come on! L'ultima cosa che faccio io è buttare il cibo! Sono immaginato Zero! Dalla padella al sacco dell'immondizio! Ah 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 ah! E poi ci scrive sopra... Quel tipex! FAK AFRICA! Cioè io... Io non so perché ricordavo che Koopa Kut fosse il re del backtracking... Ma... Lui l'ho finito in cosa, un'ora? Yes! YES! Sono... Arctos... Elector... No... Elector... Elector è in francese forse Non ne ho idea Però sono Electros se non sbaglio Electros è un vero Pokémon Zaptos? No Zaptos è il nome in inglese A volte in tedesco si chiama Zaptos Sono Zaptos, Actos E un altro Foyeros Foyero Zaptos, Actos E Lavados Può darsi No Forse Può darsi Lavados L'idea che se ne ti panno Con tutto Cosa vuoi? Newsletter Silver Club Oh yes Il cannonio nella versione inglese muore Non lo sai? Muore davvero Nella versione inglese Dopo il Dopo aver preso la quinta gemma stella Tutte le pareti crepate si rompono da sole Per la tristezza Vabbè non parliamo di lui mentre non c'è A chi devo darla? Io non so come risponderti Zero Perché Pipino C'è solo in Sticker Star E non Non è qui No Le TNA Rocca Selvaggia E i stivali I terzi stivali Dove si ferma il treno Sto scambiando Sticker Star Stai scambiando tutto proprio Sono tornato Tranquilli Ahà Thank you Squitty La cosa Wow mi danno l'inabilità ninja contro il boss finale Io mi ricordo che Continui ad attaccarlo Finché crepa Mi Lethal E' come tutti i boss di Kirby No? Vendimi un fucco secco Te la rub Lo voglio Logo va anche bene Thank you Oh questo è perfetto Ho già il libro Quindi sarà breve Eee Possiamo cominciare a cucinare un po' di roba Così mi svuoto l'inventario Perché battolo con un'abilità Una cavolata Batterlo senza È un po' Eh Non è esattamente facile Parlando di cucina Lei ha bisogno di un libro Per imparare a unire due ingredienti Wow Non era tipo la super chef No Pensa che in super paper maria Ce n'è una che non impara mai A usarne due Devi andare alla dimensione alternativa Per combinarne due Ok Fammi un tè Ah ah Shit Ci sono anche questi stupidi libri da comprare I super Luigi Dovrebbe darmi il cibo spaziale Funghi fritti Yes Ok Tiorella mai più in teoria Poi Posso fare questo Posso fare l'oni ultra Suo fratello Su Per riportare Ha in mente 90 ricette E spero che almeno una di azzecarla O di non cagarne troppo Ok Questo dovrebbe dare la macedonia Yes Ok Macedonia Ok Ok Vediamo subito se so fare il coniglio di neve No Oh shit Please no The Yes Ultra shroom E Gemming jelly Gemming jelly E Super shroom Ok Insalata Ultra shroom da solo fa qualcosa Ah no Fa la shroom steak Slow shroom da solo Si drago Sto facendo il 100% Di tutti i paper mario Ah shroom roast Eccolo qua Che aggressivo Con overwatch Ok spicy soup Eeeh Snow bunny Gnie Guardala come è brava Che contiene le esplosioni atomiche La qua che è sempre incazzosa Perché Non lo so Botox Botulino Troppo botulino Le ha bloccato l'espressione così forever Yes Ok Allora Le tessere che vende solo lui Quali sono Questa credo Hammerman Bravo Combattere io una lesca per un'ora Marco andiamo Flavio Flavio in inglese Ok Flavio Flavio in inglese Ah, c'è. Ehi guarda c'è un tizio che non somiglia a Fustighino sulla nave Penso di poter andare direttamente, allora non devo aspettare i comodi di nessuno C'è in teoria il Goombestein che mi dice Ehi Abita qui da parte a me Com'è in inglese già? Admiral Bobbery mi pare Sorry devo ispezionare casa sua Mi pare che è anche lì in mezzo ai crediti Ok Ma anche se decidessi di farlo Cioè i speedrunner fanno pratica per ore per azzeccarlo quel glitch Io non penso che ce la farei Prima fase? No mi sa che non ci sta in due video Magalora Ciao Tostina Salve Cioè non ci sta in un video Pensavo che devo farlo in due video Ah fallo in due Parecchio lunga la battaglia L'avete già visto quindi cioè Non è che se lo faccio io è diverso Dobbierai in post Zero doppia? Che doppia? Tu No No Zero sta facendo solo pratica Adesso Holy shit Here we go Il viaggio che non verrà interrotto Zero è un miracolo si doppia con la spada forte Già No 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 No